Bella ragazzi, carichi come non mai da FuseGamer Oggi ragazzi, novità importantissima Su FIFA 18, finalmente inseriranno Il nostro Dio, il nostro Dio Maradona, Diego Armando Finalmente ragazzi, lo potremmo utilizzare Su FIFA 18 Andiamo a vedere subito il video che ha inserito L'EA su YouTube E Twitter, andiamo a vedere FIFA 18 Ultimate in Present, ci saranno ovviamente sia su PS4 Sia su PC sia su Xbox One Anche su Nintendo Allora, queste sono tutte le icone, se non sbaglio c'è Maradona, dico mai non andiamo Yashin Grande portiere Thierry, ovviamente Il nostro francese Pelé Anche se già c'era Pelé E se non sbaglio Ronaldo, ah è Ronaldo, Ronaldo ovviamente Ronaldo, il mitico Ronaldo Eccoli qui ragazzi Guardate chi è scemo Guardate come sta Guardate Maradona Maradona Che Pelé Secondo me però le faranno dare quali overall Sia Maradona che Pelé Tutte due 95 li faranno Adesso andiamo a Eccoli qui Voi qua lo potete già ordinare Ragazzi allora io Sono andato su Footwiz E ho creato già la carta di Maradona Decideremo insieme il rating E le sue statistiche Guardate qui il nostro Maradona Adesso lo andremo a fare Altri rating lo faranno 95 A meno che Non facciano più forte sia Maradona che Pelé Ma secondo me fanno tutte e due 95 Poi le statistiche Allora il pace Facciamo 94 Shot Facciamo un bel 90 Passing Quando posso mettere passing? Passing 96 Eh guacchi a meno 96 Dribbling Ah se facciamo lo shot un po' di meno Lo shot 88 vai Pace Vorrei mettere pure un po' di meno Metti 90 il pace Dribbling 94 Difesa mettiamo Vabbè un bel 54 Anche se è a caso E fisico Mettiamo 80 Va 80 Fammi mettere bene Ecco qui la nostra Allora in questo caso è leggenda Perché in questo momento Non posso utilizzare Altre carte da fare con Quindi sarà finalmente Utilizzabile su FIFA 18 Grandissima novità Quindi ragazzi Ce ne saranno delle belle In questo nuovo FIFA Vi ricordo di vedere il video Che ho pubblicato oggi Ovvero una parodia Molto incredibile Quindi vi ricordo Di andarla a vedere Primo link in descrizione E anche Di comprare le magliette Il mio sito ufficiale Quindi ragazzi Tutto in descrizione Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Mi raccomando iscrivetevi al canale Noi ci rivecchiamo In un prossimo video Maradona Nooo